Grazie per essere venuti. È la signora? Sì, è lei, ma adesso è tutto a posto. Vuole che l'accompagnino a casa? Magari, per favore. Voi non sapete com'è buono il mio nipotino? Bravo, mi mancherò. Perché non mi fate stare qui almeno una notte? No, no, io non posso stare lontana del lui. Vaig a rimanere qui. No, io... L'ajardo di lui.